L'ombra del commissariamento sul consorzio di bonifica 2 Altovaldarno. È arrivata infatti lo scorso martedì la lettera firmata dal governatore della Toscana Rossi sulla scrivania del presidente del consorzio Tamburini, con la quale la ragione chiede alcuni chiarimenti circa l'attuazione degli interventi di manutenzione inseriti nel piano delle attività 2017. La regione infatti imputa lente ritardi e inadempienze. L'accusa è quella di non aver effettuato lavori previsti nei corsi d'acqua montani, in Prato Magno e nei rilievi tra il Casentino e la Valtiberina. Il nostro piano di attività è stato approvato dalla regione a maggio 2017. Quindi siamo a novembre e in 5-6 mesi non si poteva riuscire a fare tutto, sia per quanto riguarda il nostro territorio che per quello che riguarda le unioni dei comuni. che lavorano per noi nei territori di loro competenza. Ecco, io credo che onestamente con la fine dell'anno, massimo i primi dell'anno, sarà tutto completato. Come da noi, così nelle unioni dei comuni c'è qualche ritardo, ma ripeto, fisiologico. Adesso lente avrà 30 giorni per le contraddeduzioni. Se la regione non le riterra idonee, si potrebbe procedere al commissariamento. Oltre al Consorzio 2 e Alto Valdarno, a rischio commissariamento, anche il 4 Basso Valdarno e l'1 Toscana Nord. Non c'è rischio commissariamento quindi per quanto riguarda il vostro Consorzio? Ma per quanto riguarda il nostro Consorzio direi assolutamente no, ma penso anche per l'altro, almeno un altro, ma forse anche tutti e due, diciamo. Ma io, se la regione ci chiede, anzi, è anche bene. Vogliamo davvero dimostrare l'attenzione che abbiamo dedicato al nostro lavoro.